La mostra di Carlo Lorta che rinvia a Tuttavia, scena la Galeria Tottinelli di Roma. La mostra fa parte del progetto Il Capo tedesco che ha il patrocinio della Direzione Generale che è un intervistato degli affari esteri per la promozione culturale della Galeria Tottinelli e della Rufa University of Finance è una mostra generale che significa tappa italiana che è il simbolo di Baviera poi è stato presentato a Succarda adesso in Berlino e che seguirà il suo italiano di futuro di Francoforte di Sommeno, di Colonia e di Berlino vediamo in mostra i cicli fotografici di Carlo Lorta, Migrazioni, Berlino, Mediterraneo e Venezia la mostra sarà qui in Galeria fino al 30 maggio 2018 di Sommeno, di Sommeno, di Sommeno di Sommeno, di Sommeno, di Sommeno, di Sommeno Sommeno, di Sommeno, di Sommeno 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 e Sommeno Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.